Onorevole Nicola Molteni, continua la battaglia della Lega Nord affinché il Ministro Cancellieri cambi idea, modifichi la riforma e tenga aperti i tribunali decentrati? Ieri è arrivata una nota da parte del Ministro, la quale ha dichiarato che sarebbe una catastrofe se questa riforma venisse momentaneamente bloccata. Noi invece riteniamo esattamente il contrario, cioè che sarebbe una vera catastrofe per il sistema giustizia, per i cittadini e per le imprese, che questa riforma, così come è strutturata, che comporta la chiusura di più di mille uffici giudiziari sul territorio, la stragrande maggioranza soprattutto al nord, possa continuare. La Lega è sempre stata favorevole ad una razionalizzazione secondo un principio di virtuosità degli uffici giudiziari, ovvero gli uffici giudiziari che non lavorano, che non producono, che non sono virtuosi, vanno chiusi. Quelli invece che funzionano e che danno un servizio al cittadino vanno tenuti aperti. Voglio ricordare tra l'altro il carattere assolutamente discriminatorio di questa riforma, l'avevamo già fatto presente in passato, lo confermiamo ancora oggi, vengono chiusi soprattutto e in modo particolare uffici giudiziari al nord e io credo che i cittadini del nord questi servizi se li siano abbondantemente pagati. C'è una proposta di legge, afferma anche della Lega, ma afferma anche di tutte le altre forze politiche per chiedere la proroga di un anno dell'entrata in vigore della legge per correggere, non per bloccarla. Adesso attendiamo la posizione delle altre forze politiche, PD, PDL, scelta civica, le altre forze politiche che sostengono la maggioranza da un lato e che dall'altro lato hanno chiesto insieme a noi il momentaneo stop di questa riforma. Ora vedremo quale tipo di atteggiamento avranno di fronte alle parole del ministro. La Lega certamente in modo coerente continuerà la battaglia per tenere aperti quei tribunali del nord, quelle sedi distaccate del nord, quegli uffici dei giudici e del pace del nord che funzionano, che sono efficienti e che danno giustizia a cittadini e imprese. Se non venissero mantenuti aperti questi uffici noi siamo assolutamente convinti che a non ci saranno risparmi, non ci saranno economie, come invece annuncia il ministero, al contrario ci saranno grandissimi disagi, i tribunali capoluogo verranno ingolfati di cause e quindi la giustizia sarà ancora più lenta e più inefficace di quanto non l'è già oggi.